Certo che il mare è proprio bello, mamma mia se è bello, ho ancora il ricordo, mi viene la pelle d'occa a pensarci al ricordo dell'11 agosto 2018 quando eravamo in questo bagno Florida a suonare, è stata la nostra prima volta in Liguria, un'emozione incredibile. Ci stiamo preparando perché il 9 di agosto saremo qui ai bagni Florida a suonare nuovamente. Ma saremo solo noi direi. Eh no, abbiamo chiamato anche lui, è già qua con noi, cioè Franco il deserto delle ombre. Beat Circus e Franco il deserto delle ombre con l'augurio di goderci la vita, vi aspettiamo numerosi su questa magnifica riviera Ligure. Ci vediamo il 9 agosto qui ai bagni Florida. Ciao ragazzi! Ciao! 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 Ciao!